Un 31enne di origini senegalesi è morto dopo essere stato investito sulla strada che collega Battipaglia ad Eboli. L'uomo poco dopo le 22 si trovava a bordo della sua bici quando per ragioni ancora in corso di accertamento è stato travolto da un'auto che lo precedeva. A bordo dell'auto una farmacista ebolitana fermatasi prontamente per prestare soccorso e chiedere aiuto ai passanti. Il 31enne, nonostante l'intervento degli operatori del 118, è morto sul colpo per le ferite riportate alla testa e per i danni agli organi interni. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il ciclista avrebbe invaso la corsia per evitare un canneto che rendeva difficile il transito. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Eboli.